popolo di gamesoul popolo di gamestop bentornati al nostro appuntamento fisso col calendario dell'avvento scopriamo subito il gioco di oggi il gioco che oggi noi di gamesoul.it ci sentiamo di consigliarvi tra i tanti proposti dalla promozione di gamestop relativa al calendario dell'avvento è grid e adesso vi fornirò cinque motivi per cui non dovete proprio farvelo scappare numero 1 semplicemente per tutti non è un arcade non è un simulativo grid paradossalmente è per tutti grazie ai tanti aiuti alla guida che si possono attivare e disattivare ognuno potrà trovare il suo stile di gioco preferito numero 2 diverse auto per diversi gusti il parco auto di grid è talmente ampio che tra le vetture disponibili potrete persino selezionare una formula 1 la formula 1 di fernando alonso per esempio ogni amante d'auto insomma può trovare la sua auto preferita o magari sbizzarrirsi con auto che solitamente non avrebbe mai pensato di poter utilizzare 3 l'intelligenza artificiale non dimentica la cpu ha il brutto vizio di vendicarsi di sorpassi poco eleganti quindi state ben attenti quando deciderete di fare a sportellate con un avversario numero 4 provate a finire tutti gli eventi con oltre i 120 disponibili grid vanta tra le sue qualità anche una longevità davvero niente male ed infine motivo numero 5 circuiti da tutto il mondo nonostante la presenza di tracciati assolutamente di fantasia grid non rinuncia ad alcuni circuiti reali come indianapolis sepang e sylveston questi sono solo 5 dei motivi per cui non dovete proprio farvi scappare grid in offerta da gamestop grazie al suo calendario dell'avvento grazie a tutti